Ciao, oggi ho per voi un allenamento, un braio allenamento di 10 minuti dove andremo a stimolare l'addome ma anche a richiamare la componente della stabilità. A voi! Ciao, oggi vi presento un allenamento dove andremo a lavorare sull'addominale e la parte di richiamo sulla stabilità degli arti inferiori. Come sarà impostato questo allenamento? Sarà una piramide lunga, partiremo con 5 ripetizioni dell'esercizio che stiamo vedendo quindi un addominale con le gambe piegate. Secondo esercizio invece sarà un saltello a una gamba sola, 4 gamba destra, 4 gamba sinistra andremo a saltare un piccolo ostacolo. Stiamo dicendo che la piramide lunga sarà fatta dal primo esercizio 5 ripetizioni, il secondo 4, questo è il terzo esercizio, saranno 3 ripetizioni del crancialibro dove vado a eseguire il movimento in maniera molto molto lenta, vado a chiudere, staccare bene le scapole da terra e espirare e soffiare bene l'aria. Per cui faremo 5, 4, 3, andremo a fare adesso due ripetizioni, due salti con una gamba sola verso l'alto, quindi una gamba va indietro, vado a spingere con la gamba che mi sostiene e naturalmente vado a spingere verso l'alto, vado a cambiare gamba, stessa cosa con in questo caso la gamba destra, piede completamente appoggiato a terra, scendo, 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 scendo e vado a estendere verso l'alto. Andiamo poi a fare una ripetizione per gamba di questo esercizio, quindi è uno squat, una cosciata con un salto e atterraggio su una gamba sola. In questo caso è richiesta naturalmente stabilità ed equilibrio. Questo è il primo blocco, il primo circuito. Ci fermiamo un attimo e ritorniamo verso l'alto. Cosa significa? Siamo arrivati a una ripetizione e ritorniamo esattamente all'inizio, per cui il penultimo esercizio erano due ripetizioni a una gamba sola con il salto verso l'alto, per cui aspetto, spingo e salto. Prima cosa, cosa importante è scendere bene con la gamba e piede sempre completamente appoggiato a terra. Passiamo poi al crunch a libero, abbiamo detto in questo caso tre ripetizioni, allungo bene e stacco espirando, per cui è molto importante la parte appunto lenta, controllo anche la frenata, salgo ed espiro verso l'alto. Ritorniamo poi ai saltelli laterali con una gamba sola, quindi prima gamba destra, poi gamba sinistra, piccolo ostacolo. Anche qui cerco di ammortizzare, do precedenza, appunto priorità alla stabilità del piede. Lavoro prima con il piede sinistro, poi con il piede destro, quattro destra, quattro sinistra. Ci restano cinque crunch, cinque addominali. In questo caso le gambe sono ferme, sono piegate, stacco bene le scapole, vado lentamente e anche in questo caso vado ad espirare, quindi a soffiare il più possibile e a svuotare bene i polmoni per contrarre, richiamare la contrazione completa dell'addome. Questo è il primo mini blocco di questo circuito. Il secondo blocco è questo, partiamo con una tenuta, una tenuta a tempo. In questo caso è sempre una piramide a scalare e poi risalire, è una piramide lunga. Io tengo le gambe distese e più allontano le gambe dal corpo, più la parte centrale dell'addome, più l'addome è costretto a essere, a contrarsi e a pertenere appunto le gambe che sono lontane, scapole sollevate, braccia tese verso l'alto oppure come avete visto posso in maniera alternata portare prima un braccio oppure l'altro dietro. In maniera alternata andiamo a fare poi un esercizio di stabilità, quindi in questo caso 20 secondi per gamba. Siamo partiti, primo esercizio 30 secondi di tenuta, secondo esercizio 20 secondi di tenuta dove andiamo a lavorare sulla stabilità appunto delle gambe, quindi articolazione della caviglia, ginocchio e dell'anca. Prima una gamba, poi l'altra gamba. Concentriamoci, quindi cerchiamo di rimanere stabili, cerchiamo di rimanere stabili, cerchiamo di piegare la gamba davanti, quindi cerchiamo di sentire anche la gamba dietro estesa, in questo caso gluteo contratto, braccia, che in questo caso potete trovare voi la soluzione migliore per gestire l'equilibrio, io cerco di tenere le braccia larghe e le mani vicine per gestire al meglio l'equilibrio. Quindi abbiamo detto poi andiamo a effettuare questo plank di 10 secondi, 10 secondi perché in questi 10 secondi io devo svuotare al massimo i polmoni, quindi 10 secondi dove vado a tenere il sedere e l'addome il più possibile e soffio, espiro completamente a svuotare i polmoni per 10 secondi. Ritorniamo indietro, ritorniamo esattamente all'inizio, quindi ripartendo sempre per dal penultimo esercizio 20 secondi per gamba. Qui è importante rimanere in appoggio su una gamba, ma è altrettanto importante estendere la gamba dietro, tenere la schiena in linea, posso tenere le braccia lunghi fianchi oppure posso tenere un braccio che punta appunto verso il pavimento e un braccio opposto di stenderlo avanti. Stessa cosa andiamo a fare con l'altra gamba, naturalmente faremo prima la parte destra, poi la parte sinistra, vedete le braccia possono essere tese, la gamba che mi sostiene piegata, la gamba dietro è stesa, posso portare un braccio e puntarlo verso il pavimento e il braccio opposto posso puntarlo, posso distenderlo avanti oppure posso tenere anche tutte e due le braccia tese. Andiamo poi a fare l'esercizio iniziale, a chiudere con l'esercizio iniziale che sono appunto 30 secondi di tenuta addominale con le gambe tese, le braccia tese, questo naturalmente è un workout di 7 minuti, anche in questo caso questa tipologia di allenamento può essere resa più intensa aumentando il numero di ripetizioni, aumentando anche i giri dei blocchi per cui posso fare più serie. Questa è una prima infarinatura. Tengo le gambe, più sono lontane dal corpo più attivo l'addome, siamo arrivati, l'allenamento finisce qui, provatelo e come sempre divertitevi. Grazie a tutti.